Viste le permesse così interessanti di una struttura dati come lo stack, si potrebbe aspettare che il codice corrispondente sia di un certo livello, di tutto rispetto, insomma non banale. E invece è proprio così, avendo già a disposizione i comandi per far funzionare una lista semplice, implementare uno stack è veramente un gioco da ragazzi, perché in sé non è che una variante di una lista semplice. Vi ricordo che ci siamo organizzati in questo modo, abbiamo spostato tutto il codice delle funzioni che implementano l'operatività di una lista semplice in un file sorgente listesemplici.cpp separato, quindi qua abbiamo semplicemente copiato e incollato il codice di quelle stesse funzioni viste a parte. Abbiamo poi aggiunto un header, un listesemplici.h che ripropone l'elenco delle funzioni che si vogliono esportare, cioè poter utilizzare negli altri programmi come una delle librerie che già conoscete. Leader contiene la dichiarazione delle strutture fondamentali per gestire tutte le operazioni e come dicevo l'elenco delle intestazioni, delle dichiarazioni anticipate con la parola extern che rende utilizzabili in altri sorgenti questi stessi comandi. Aggiungiamo quindi un nuovo file o col bottone corrispondente, questo in alto a sinistra, new file, oppure il classico menu file, new file from template, categoria files tipo c c++ source. Bene, qua è tutto abbastanza, andiamo a scegliere anche la posizione, mi mettono la stessa cartella degli altri ovviamente, diamo il nome stack, dunque .cpp dovrebbero metterli in automatico comunque, salva, fine, finish, ecco qua, ed è già aperto, vado a copiare da liste semplici, il riferimento all'include, ok, il punto d'ingresso alla struttura, il puntatore all'oggetto stack, mettiamolo qua nel main, è sempre un nodo pointer, però chiamiamolo in modo diverso, non stack perché se andate a curiosare nella standard library, la stdl, troverete già nei containers, nei contenitori, un oggetto preconfezionato che funziona proprio come lo stack, ok, però quello è un po' più sofisticato, se non ricordo male, poi è in grado di funzionare per mantenere in pila diversi tipi di oggetto, non soltanto non omogenei, insomma, poi non interessa quello, interessa imparare come scrivercelo noi. Chiamiamolo quindi, non so, la pila, lo stack la pila, e inizializziamo il puntatore al classico valore nulla. Certo che pila non mi piace, chiamiamolo my stack, il mio stack. Dai, così lo preferisco. Mi sono spostato nel sorgente dello stack stesso, iniziamo con qualche funzione semplice, nella letteratura troverete sempre un comando, un metodo, una funzione, chiamatela come volete, per verificare se lo stack è vuoto oppure no, quindi la risposta è un vero falso, cioè un bool, usiamo l'inglese, anche se evidenzierà la parola in verde, perché anche empty ha un significato in qualche sorgente, non dovremmo comunque incappare in conflitti. Empty, vuoto, non devo dire nulla, se non qual è il puntatore, lo stack ovviamente, bool empty, e quindi un nodo pointer my stack. Beh, è proprio banale banale, perché devo semplicemente restituire lo stato, un test sullo stato del puntatore, quindi return, il risultato del confronto tra my stack e il valore null. Quindi se lo stack è vuoto, il puntatore passato è null, quindi my stack ugual null darà risposta true, vera, altrimenti false. So che qualcuno starà corrucciando un po' le ciglia dicendo, bah, tutto sommato, tanto valeva fare nel programma principale quel confronto lì, quando serve, if my stack ugual null direttamente. Tecnicamente ovviamente lo sarebbe stato possibile, però il fatto di aver realizzato questo controllo come funzione indipendente, rende un domani molto più facile il complicare, il rendere più articolato questo controllo e aggiungere altre operazioni. E dal punto di vista dell'utilizzatore non cambierà nulla, sarà sempre un if empty, un certo stack. Cambierà il contenuto della funzione, viceversa, tutte le volte che si cambia qualche cosa nel modo in cui si va a controllare se lo stack è vuoto, a seconda delle situazioni, ci costringerebbe poi andare a cercare in tutto il nostro codice dove sono quelle parti in cui si fa il controllo che adesso è diventato insufficiente. Poi invece andiamo qui, a colpo sicuro, e andiamo ad aggiungere tutta la nostra logica che migliora il controllo sullo stack. Vediamo con un diagramma il prossimo passo, che è quello di implementare l'operazione di push. Il trucco è quello di fare gli inserimenti e prelievi sempre allo stesso capo di quello che sotto sotto è una lista semplice. Il punto più semplice di una lista concatenata in cui fare ciò è certamente la testa. Ecco perché la nostra push di fatto corrisponde a un inserimento in testa, in una lista semplice concatenata. Si parte col puntatore che è chiaramente a nulla, l'inserimento in testa, andrà a mettere in cima lo stack che qua dobbiamo immaginare sviluppato in orizzontale, quindi questo qua è il primo piatto che mi ha messo sopra la pila. A questo punto un secondo inserimento in testa che cosa farà? Metterà prima di questo l'altro nodo, quindi da punto di vista logico si sposta questo che è il primo piatto e ci mettiamo sopra l'altro piatto sulla pila, eccolo qua. Quindi la base dello stack, il primo elemento inserito è questo, il secondo è questo, e così via. Quando faremo il prossimo inserimento in testa è come se si facesse spazio e inseriamo il terzo piatto sulla pila, il terzo elemento, quindi questa è la cima sempre, è la testa della lista semplice, ma rappresenta la cima dello stack, cioè il punto, quello che sta in alto se vogliamo rappresentare lo stack come abbiamo sempre fatto nelle lezioni precedenti. push, 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 quindi poi quando chiederò pop, cioè di estrarre un elemento, di nuovo dovremo agire qua. Pop dovrà restituirmi questo elemento, togliere il primo piatto in cima alla pila e lasciare gli altri due. pop, togliere questo, restituisce il chiamante e così via. Se avete capito questo è veramente immediata la codifica, è un inserimento in testa a cui passiamo il puntatore my stack, passato per indirizzo qui e anche là. vi ricordo che questa e-commerciale che abbiamo messo davanti al my stack come parametro significa che la funzione che riceve il parametro, riceve l'indirizzo di quel parametro, di quel puntatore e in quanto tale ne potrà modificare il valore in modo permanente. my stack e il nodo nuovo da aggiungere. è una specie di passaggio del testimone, passo all'ala, a chi già sa fare l'operazione sulla struttura più generale della lista concatenata. fatto. la pop mi restituisce un oggetto puntato, quindi un nodo pointer, il risultato. devo dare come parametro il puntatore all'ingresso dello stack, anche qui con l'ampersend perché c'è bisogno di modificare il valore di questo puntatore perché se abbiamo detto che tutte le operazioni avvengono qui in testa, sempre quando inseriamo un nodo dovremo modificare il valore di questo puntatore e sempre quando togliamo qualcosa dalla testa, di nuovo toccherà modificare il valore del puntatore, è ovvio spero. liberiamoci del caso particolare ma importante di, guarda che lo stack è già vuoto quindi non possiamo fare nulla, quindi se è vuoto lo stack, cioè if empty, sfruttiamo la funzione di prima, if empty my stack, restituiamo il null in pratica, perché qualcosa dobbiamo restituire, quindi un return null. altrimenti vuol dire che veramente possiamo togliere e restituire. Ora per togliere questo elemento dovrò spostare my stack sul suo puntatore next, ha lo stesso valore di next, ora però non avrei più la possibilità di restituire il nodo che ho tolto effettivamente ma perso, ecco perché la prima cosa da fare è salvarsi il nodo che ho tolto, quindi il valore che ha in questo momento my stack in un puntatore ausiliario che poi andremo a restituire, quindi un nodo pointer tmp gli assegno il valore che ha in questo momento lo stack, cioè sta puntando all'oggetto che sta in cima allo stack. ora posso cambiare il valore di my stack e spostarlo sul next e atto finale restituiamo semplicemente tmp, quindi abbiamo fatto una cosa di questo tipo, abbiamo prima, dovrei fare una coppia di questo, vediamo se ci riesco, così tmp punta stack, ora posso quindi spostare stack qui al suo valore next e siamo in questa situazione in cui ho lo stack di prima dopo aver tolto dalla sua cima come richiesto dall'operazione pop il suo elemento, l'elemento è agganciato dal tmp ed è questo valore che devo restituire al chiamante del comando pop, ora per poter testare il codice nel main realizziamo un header.h come già abbiamo fatto con le liste semplici per cui andiamo ad aggiungere al progetto un file di tipo header, il nome sarà stack, anzi, my stack.h, per comodità il codice è veramente breve, si può fare un copy in colla di tutto e poi togliere l'implementazione, ricordatevi però di aggiungere davanti dappertutto l'externo, lo faccio dopo così faccio qualcosa in colla rapido, punte virgola, punte virgola, punte virgola, punte virgola, ok, l'externo come dicevo, così, prima di procedere un paio di ritocchini su cui mi è caduto l'occhio, qui nello stack.cpp, attenzione non è in se testa scritto in questo modo ma così, almeno questo è coerente col codice del mio liste semplici.cpp, poi nella pop qua è my stack, non my stack.h, il secondo ritocco riguarda una dimenticanza, un quasi certo che quando vi ho chiesto di aggiungere lo stack.cpp e il my stack.h con il file, new file, sto simulando quello che mi sembra essere successo, go, next, ok. Qui non vi ho fatto mettere il segno di spunta, intanto vale a fare con all per averlo sia sulla versione del bug e release, altrimenti c'è il rischio che fisicamente voi vediate qua sulla sinistra nell'albero del progetto i file, però dal punto di vista del compilatore è come se non appartenessero al progetto e non li compilerebbe. Il risultato, ogni riferimento e i comandi dello stack risulterebbe con un messaggio di errore. come si può rimediare? Adesso io qui annullo, project, properties, build target, quindi bersagli, gli obiettivi della build, della costruzione, del progetto, qua sotto avete l'elenco dei file che sono a disposizione, aggiungete, potete usare anche il bottone all on, così, per sicurezza, ok. Ok, andiamo nel main, andiamo ad aggiungere come verifica del funzionamento del tutto, un ciclo, anzi due. Prima un for che crea dieci nodi, col valore di info corrispondente a quello della i, e comanda il push sullo stack. Poi fa l'inverso, con un ciclo while, perché in teoria potremmo anche non sapere quanti ce ne sono sullo stack, finché non è vuoto lo stack, quindi finché non vuoto stack, ecco che diventa utile ed elegante la funzioncina che ci siamo scritti per fare questo test, finché ci sono elementi sullo stack, estrae con pop, pop da stack, da my stack, e copia il puntatore nel pointer estratto che ho dichiarato qua sopra apposta. E stampami il nodo che ha estratto. Dunque per correttezza dovremmo anche preoccuparci di cancellare, dopo averlo usato, estratto. Proviamo. Benissimo. Come forse molti di voi si aspettavano, l'estrazione avviene secondo la filosofia, la tecnica LIFO, last in, first out, per cui il 9, che è stato l'ultimo elemento inserito, che è in cima alla pila, è l'ultimo dei piatti in alto, è il primo che posso prendere per asciugarlo. E quindi 9, 8 fino a 0. Con questo piccolo esempio termino la lezione, nella prossima vedremo i primi esempi, un pochino meno banale di questo, per poi passare ad altri un pochino più articolati.